io sono veramente contento io credo che ogni giocatore ha bisogno sono quelli che sono già pronti sono quelli che hanno bisogno di un percorso di crescita io sono contento di essere qua adesso e voglio migliorare ancora di più vediamo dove dove arriveremo sì sono contento per aver acquisito questa per essere versatile per la squadra e diciamo che diciamo che mi piace avere spazio quindi oggi nel secondo tempo il mister mi ha lasciato veramente libero davanti per poter correre sugli spazi e sono contento di come è andata sono a disposizione grazie a tutti grazie a tutti